Ma ho detto subito, questa manovra, frutto delle richieste che ci sono pervenute, frutto degli accordi che siamo riusciti a prendere con tutte le altre forze politiche e con le forze sociali, è una manovra che consideriamo migliorabile. Non la porteremo in Parlamento dicendo o è questa o nient'altro, noi ascolteremo tutte le suggestioni, gli emendamenti che ci verranno suggeriti, proposti da tutte le forze politiche ci hanno subito detto che il governo era in confusione. Sulla sinistra ha detto che il governo aveva perso la bussola, i suoi giornali hanno fatto una campagna totalmente anti-italiana, illustrando un governo, una maggioranza che non sapeva Cosa fare? Viene da dire che sono pronti per una dittatura che dice ecco questa qui è la manovra, prendi e basta.